i confetti dorati realizzati con polvere color oro per dare questo effetto perlescente sono christian mucci e rappresento la quarta generazione di questa gloriosa azienda nata ad andrea nel 1894 oggi vi accompagnerò nella degustazione del kit oro dove all'interno come vediamo la presentazione del pergamena sono riportate le varie tipologie di confetti e che proponiamo all'interno di questa degustazione con questa pergamena è possibile soprattutto leggere gli ingredienti ma anche i valori nutrizionali legati a quelle che sono le materie prime che mucci utilizza dal 1894 per la realizzazione di queste specialità semplicemente uniche con i migliori auguri della famiglia mucci un dolce presente per voi accompagnato da un bugiardino dove sono rappresentati alcuni esempi di confetti e dragè che realizziamo oltre quelli che gusteremo insieme un foglio di plastica per alimenti per poter salvaguardare i nostri confetti ed iniziamo subito da quello che è il confetto per eccellenza il classico con la mandorla pelata avola che troviamo al centro della confezione a destra eccolo qui la regina delle mandorle delicatamente confettata non solo confetti bianchi ma soprattutto dorati calibro mandorla avola 36 37 delicatamente confettata e rifinita con polvere color oro una meraviglia per gli occhi in alto a sinistra stesso calibro mandorla pelata avola 36 37 ricoperta di cioccolato bianco aromatizzato con olio essenziale di limone e delicatamente confettata unica per la sua proprietà organolettica e per i profumi che possiamo ascoltare delicata e unica sempre la mandorla pelata avola ma ricoperta di cioccolato bianco aromatizzato con olio essenziale di arancio dolce la famosa regina elisabeth mucci unica e straordinaria per la proprietà e la sua forma eccolo qui il tocco di classe mucci i famosi tenerelli mucci nati ad andare negli anni 30 nocciola piemonte igp o mandorla di toritto ricoperta di cioccolato fondente bianco e delicatamente confettati unici nel loro genere nella forma presenti al centro di questo kit degustazione in alto al centro i classici confetti con cioccolato fondente è possibile gustare sia quello a forma di mandorla denominato col nome di tipo avola ma anche il confetto con cioccolato fondente sempre a forma di cuore io prendo questo perché il cuore rappresenta amore l'unione della coppia è opportuno avere sempre dell'acqua liscia possibilmente per poter rinfrescare il palato e continuare a gustare tutti i sapori e gli odori che sono racchiuse all'interno di questo kit degustazione in basso a sinistra la monnelisa mucci mandorla di toritto tostata ricoperta di cioccolato bianco aromatizzato con olio essenziale di limone o arancio o aroma naturale di pesca frutti mediterranei e pistacchio è stupendo è famoso è il bianco cocco mucci nocciola piemonte gp ricoperta di cioccolato bianco miscellato con scaglia di cocco raspato fine aroma naturale di cocco e rifinito con questi confettini cristallizzati intorno al centro in basso di questo kit degustazione oro in basso a destra i confetti ricci nati ad andrea fine ottocento per il famoso carnevale mucci mandorla di toritto rifinita con dello zucchero bianco e miele speziato con garofano cannella e vaniglia naturale questo non è un confetto duro ma è croccante il tocco di classe che rende unico nel suo genere il kit degustazione oro il cinquantesimo riprodotto su questo meraviglioso confetto ripieno di cioccolato liquido gustiamolo insieme e qualora ne abbiate desiderio sarò a vostra disposizione su mucci giovanni.it per potervi affiancare in una degustazione privata grazie a tutti